Buonasera, benvenuti 8 e mezzo sabato, buonasera, benvenuta Sofia Ventura, politologa, buonasera, buonasera, benvenuto Claudio Cerasa, direttore del Foglio, buonasera, bentornato Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Con la maggiore ragione, dopo il voto Umbro, c'è chi dice che questo governo sta insieme solo per le poltrone e per la paura di Salvini. E così, subito dopo la pubblicità. Professoressa Ventura, a maggior ragione dopo il voto Umbro, c'è chi dice che questo governo PD 5 Stelle si tiene insieme solo per le poltrone e per la paura di Salvini. Penso che lei è abbastanza d'accordo su questa analisi. Sì, anche se non userei l'espressione poltrone, perché in realtà è un po' un contagio che abbiamo da questa retorica anticasta che ci portiamo dietro da troppo tempo e che non fa bene al dibattito pubblico. Ciò detto, credo che effettivamente il problema del, per quanto riguarda il Partito Democratico, il problema è che il Partito Democratico è ormai in maniera estrema quello che i politologi chiamano il Cartel Party. Cioè è un partito che si rifugia dentro le istituzioni perché non sa gestire sostanzialmente le crisi esterne. I partiti sono in crisi da decenni ormai e il Partito Democratico risponde arroccandosi dentro le istituzioni, che poi vuol dire anche insomma quelle risorse di vario tipo. E i 5 Stelle? I 5 Stelle al tempo stesso si stanno indebolendo da un punto di vista elettorale, quindi del loro appeal. Hanno anche una strategia di presenza all'interno delle istituzioni, qua dovrebbe tirare fuori appunto la strategia di casaleggio e quindi hanno una convenienza anche loro. Anche se dire 5 Stelle oggi non vuol dire moltissimo perché al loro interno sono divisi. E adesso ci arriviamo. Prima voglio sentire però Cerasa su questa opinione di un governo tenuto insieme dalle cosiddette poltrone, dalla paura di Salvini. La Lega, abbiamo visto anche in base agli ultimi sondaggi, continua a crescere, quindi è un fallimento questa alleanza PD 5 Stelle? Ma diciamo che dal punto di vista dei risultati la Lega aveva il 34% alle europee e oggi secondo i sondaggi è al 34%, quindi non è quello tanto il tema. Io penso che questa sia una maggioranza sbagliata che nasce per fare una cosa giusta, che è quella di mettere insieme le forze europeiste non per non perdere Narni o Terni, ma per non perdere l'Europa, per combattere l'isolamento che l'Italia aveva registrato negli ultimi mesi, per evitare la tassa Salvini e per far sì che l'Italia possa essere nei prossimi mesi e nei prossimi anni un Paese capace di avere un Parlamento disposto ad eleggere un Presidente della Repubblica non anti-europeista. Questa è la missione del governo. Prima eravamo su un Titanic, oggi siamo su una zattera e già a galleggiare rispetto al Titanic che sta affondando mi sembra un qualcosa che andrebbe apprezzato. Sei d'accordo Francesco Borgonovo? Perché diciamo che questo governo non è sicuramente molto unito, però non era molto coeso neanche quello precedente Lega 5 Stelle, no? Non sono d'accordo sul fatto che bisogna pensare all'Europa e non a Narni e a Terni, insomma il problema che i governi italiani dovrebbero pensare invece soprattutto a Narni, a Terni, a Bologna e tutte le altre città. Che poi questo governo sia nato proprio per tenere insieme, come dire, gli europeisti e per evitare che sia eletto un Presidente della Repubblica pericolosamente sovranista, questo lo sappiamo, lo hanno anche dichiarato non più tardi di qualche giorno fa Rosato, ma anche altri. Poi è vero, sì, litigavano anche quelli di prima, almeno fino a un certo punto hanno litigato formalmente, poi le cose le facevano, penso ai decreti sicurezza, il reddito di cittadinanza, quota 100, quelli sono provvedimenti che hanno portato a casa. Alla fine a forza di bordate soprattutto mediatiche poi si sono anche separati. Ora dovevamo avere il governo dei Salvatori e non solo abbiamo più elementi in campo, perché non ci sono solo i 5 Stelle e il Partito Democratico che continuano a scaricarsi l'uno con l'altro, la responsabilità delle tasse. C'è pure Renzi che fa la campagna No Tax e viene da chiedersi chi ci fosse il momento di presentare il testo, fare il testo della finanziaria. Sono vari competitor in campo che si sfidano nell'arena mediatica e poi qualcuno però deve prendersi la responsabilità del fatto che si è fatto un determinato provvedimento, si è messo una tassa sulla plastica, un provvedimento verde e non si può continuare a dire colpa tua, è colpa di Di Maio, è colpa della Castelli e noi di Italia Viva invece siamo contro le tasse. Quindi tutto questo rende la situazione un po' paradossale, specie perché questo doveva essere il grande salvataggio di fronte è il disastro salviniano. Non è il grande salvataggio, professoressa Ventura, è perché il Movimento 5 Stelle perde consensi sia che stia con la Lega sia che stia col Partito Democratico? È dovuto al fatto che continuare a dire non siamo né di destra né di sinistra, alla fine gli elettori non capiscono neanche cosa sei. Ma intanto una battuta sul salvataggio, temo che non sia il grande salvataggio solo perché questo governo è fatto in una prospettiva di brevissimo periodo e anche le parole di Claudio Cerasa in qualche modo lo confermano e non solo con una prospettiva di breve periodo ma senza guardare i fondamentali del funzionamento della nostra democrazia. Quindi è semplicemente un rinviare il problema forse aggravandolo. I 5 Stelle perché perdono consenso? Una parte del loro elettorato è comunque un elettorato antisistema o di protesta che vuole mandare a casa i vecchi partiti e inevitabilmente Salvini ha una capacità di leadership e anche una strategia di leadership molto molto più efficace rispetto a Di Maio che poi è una delle personalità del Movimento 5 Stelle. Quindi tra quel tipo di elettorato indubbiamente la Lega attira di più. In più la scelta che hanno fatto in questo momento di allearsi con il PD crea dei problemi perché quando tu gridi al lupo al lupo poi il controordine compagni difficilmente può essere efficace se fatto in maniera così improvvisa. Cioè dal PD di Bibiano al PD alleato qualche sconcerto lo crei. Su che cosa non sei d'accordo Claudio Cerasa? Ma intanto secondo me dovranno cominciare a essere meno schifiltosi nel senso che noi fino a qualche mese fa correvamo il rischio di regalare l'Italia a un leader di un partito che ha un consenso forte ma che ha scritto nella mozione congressuale con cui è diventato capo della Lega le seguenti parole. Solo conquistando l'egemonia del governo noi potremo rimettere in discussione la moneta unica. Di questo stiamo parlando. E non avere questo leader oggi al governo è un risultato importantissimo che lo si misura anche dal punto di vista del risparmio che l'Italia avrà nei prossimi tre anni sugli interessi, sui titoli di Stato. 18 miliardi in tre anni. Di questo stiamo parlando. Questo governo poi è una maggioranza che non sta bene insieme, che fa pasticci, ma è una maggioranza che deve fare piccole cose. Non deve alzare le tasse, deve evitare l'IVA, deve arrivare a portare questa legislatura alla nomina e alla scelta del prossimo Presidente della Repubblica. Dopodiché la manovra che conta è questa. Oggi l'Italia è un paese più europeista, non è più una minaccia globale per l'Europa e per l'euro. Tutto il resto si può discutere ma questa è la cosa fondamentale. Borgonovo, sembra che anche Salvini da un po' sia diventato più moderato e più europeista. Che cosa ha provocato questa improvvisa conversione? Intanto penso che non fosse così sfascista come è stato descritto prima, perché dice Cerasa, giustamente, bisogna essere meno schifiltosi, però i primi a essere schifiltosi sono stati alcuni giornali, tra cui il suo, che hanno dipinto per anni 5 stelle come il male assoluto e adesso invece devono in qualche maniera giustificare il fatto che il PD ci stia governando insieme. Poi io penso che il punto sia invece che si danno 15 euro al mese in più a pochi lavoratori sotto i 24 mila euro e poi gli si tolgono con la plastic tax 100 euro l'anno, quindi alla fine c'è un po' una presa in giro e penso che il punto sia questo, non tanto rimanere così vicini a Bruxelles o a chissà chi altro. Dopodiché è vero che Salvini ha cambiato leggermente, non tantissimo poi, i toni in quell'Europa. Evidentemente gli conviene perché poi può spaventare più di tanto l'elettore, più di quanto l'abbiano fatto i giornali che fino al primo giorno hanno parlato del piano B per uscire dall'euro e dei disastri e la rivoluzione. Ma è Salvini che ne parlava? Sì, ma veramente non era nel programma di governo, poi uno può avere le sue opinioni prima, Borghi e Bagnai per esempio, Borghi e Bagnai non le hanno mai nascoste, sì ma c'era un contratto di governo, c'era un contratto di governo firmato tra la Lega e i 5 stelle dove non si parlava di uscita dall'euro, infatti nessuno è uscito. Questo governo è stato fatto per un altro motivo, cioè che non è che volevano scongiurare che noi uscissimo dall'euro, tanto non saremmo mai usciti, si voleva impedire che una maggioranza populista, sovranista e quant'altro, eleggesse il Presidente della Repubblica nonostante il consenso degli italiani, perché ce l'hanno, è innegabile e questo spinge poi da buon gioco chi parla di poltrone, chi parla di interessi di singoli partiti, poi questi dureranno, io non credo che sia una cosa di breve periodo, l'avete detto adesso, se devono eleggere il Presidente della Repubblica non finiscono domani, vanno avanti anche perché hanno bisogno di stare lì, se ce la fanno perché non è detto. Cerasa e poi Ventura, per la verità insomma anche io mi ricordo molte puntate, anche qui a 8 e mezzo, dove abbiamo visto una Lega molto anti-europeista e a favore dell'uscita dell'euro, alcuni esponenti della Lega anche di primo piano. Sì, il dato interessante di questi pochi mesi di governo giallorosso è che, diciamo da una parte, i 5 Stelle sono stati costretti in qualche modo a cambiare linea su molti temi, sull'Europa, sull'euro avevano già cambiato, persino sull'antisemitismo, il Movimento 5 Stelle a lungo ha giocato con l'antisemitismo, oggi invece si è schierato contro l'antisemitismo con la famosa Commissione Segre. Dall'altra parte la Lega invece paradossalmente questa esperienza all'opposizione di Salvini li sta facendo bene perché è molto più istituzionale oggi che quando guidava dal papete il governo attraverso il suo ministro, al suo viminale che è diventato il vero luogo in cui si dicevano esorti del governo. Salvini oggi ha capito che deve essere più vicino a Washington che a Mosca, che non può più dire che bisogna uscire dall'euro, che non può più giocare troppo con l'uscita dell'Italia dall'Europa e anche questo c'era nella mozione congressuale di Salvini, fare come la Brexit. Quindi diciamo che questa esperienza, questo momento di decantazione da parte di Salvini potrebbe fargli anche del bene. Poi che sia credibile il Salvini 2.0 è tutta un'altra questione perché fino a che continuerà a giocare con la xenofobia e con la paura dello straniero sarà sempre un leader impresentabile, secondo me. Professor Ventura, lei non era d'accordo su che cosa di quello stava dicendo Cerasa e mi aggancio anche con un'altra domanda su questo attuale governo. Può scoccare una scintilla che faccia sì che qualche cosa di buono venga fatto da questo esecutivo? Allora, diciamo non ero d'accordo perché a mio avviso si scambiano le tattiche per cambiamenti di fondo. E appunto la questione sull'antisemitismo, non basta il voto del Movimento 5 Stelle per la commissione proposta appunto dalla senatrice Segre. Perché comunque, e questo tra l'altro è vero anche purtroppo diciamo in parte dell'elettorato della Lega, però l'antisemitismo è un problema molto serio nel nostro paese e purtroppo si sposa molto spesso, e questo ci sono anche delle analisi degli studi che lo dicono, con il populismo. Quindi pensare che un voto significhi che c'è stato un cambiamento radicale nella cultura politica di un certo elettorato, a me sembra un po' azzardato. Ecco, quindi su questo non sono molto d'accordo, anzi per niente d'accordo. Ecco, ma allora lei ha toccato un tema che è stato molto discusso negli ultimi giorni, quello dell'astensione da parte del centro-destra, quindi Lega, Fratelli d'Italia della Meloni e Forza Italia con l'esclusione di Mara, Carfagna e pochi altri, che si sono astenuti sul voto per l'istituzione della commissione proposta da Liliana Segre, una commissione contro la cultura dell'odio. Borgonovo, che messaggio dà agli italiani questa astensione? Dà un messaggio, secondo me, giusto, di critica nei confronti di una commissione che dietro una questione condivisa da tutti, cioè il fatto che non si debba dare spazio all'antisemitismo, non si debba dare spazio all'odio, sotto queste motivazioni giuste ce ne sono delle altre che nascondono un controllo e secondo me una limitazione della libertà di pensiero nei confronti di una sola parte politica. Risulta tutto questo ancora più grottesco dal momento in cui... Aspetta, aspetta, Francesco, scusa, perché? Perché io per esempio non la vedo, non lo vedo questo rischio, censura. Dove sarebbe? Perché intanto sì, in Italia ci sono delle leggi che proibiscono, ad esempio la ricostruzione del partito fascista, ci sono delle leggi contro la violenza, contro le ingiurie, contro tutta una serie di reati di questo tipo legati alla violenza. Dentro quel testo, dentro il testo della mozione di cui non si è parlato, si condannano alla pari dell'antisemitismo il nazionalismo, per esempio, il fatto che bisogna combattere gli stereotipi, si dice così genericamente, e io ricordo che oggi per qualcuno sono stereotipi anche le differenze di genere, fra uomo e donna. Allora, se io domani sono critico nei confronti di una teoria LGBT per cui uomo e donna sono indifferenziati, allora io divento uno che odia. No, scusa, nel testo si parla di nazionalismo aggressivo, perché c'è nazionalismo e nazionalismo. Si parla anche di etnocentrismo e di nazionalismo nel capitolo iniziale, poi ci sono tutta una serie di questioni elencate che vanno molto oltre l'antisemitismo che viene usato, tant'è che si è fatta tutta una questione emergenziale di questa commissione, quando in realtà, perché poi si è parlato degli insulti. Si va contro l'antisemitismo e si va, scusami solo per ricordare agli spettatori, contro l'antisemitismo e contro il razzismo. Allora, evidentemente non è così chiaro a tutti se il leader della Lega Salvini si chiede chi decide cos'è razzismo. Cerasa, chi decide cos'è razzismo? Ed è una domanda perché Borgonovo diceva, ma abbiamo leggi, abbiamo norme che sono abbastanza chiare su questo fronte. C'era bisogno di questa commissione? Cosa vuol dire questa astensione della destra italiana? Le norme ci sono evidentemente, ma la commissione Segre ha in qualche modo una funzione simbolica, perché è vero che alcuni pensieri sbagliati e anche la violenza verbale, il pensiero liberale suggerisce di combatterli con un pensiero ancora più forte, con idee ancora più forti, ma la commissione è diventata anche un veicolo di un messaggio politico e anche simbolico, perché avere una senatrice a vita che è sopravvissuta dall'Olocausto, che impone quel tipo di dibattito all'interno dell'agenda politica è non essere a favore, è un messaggio politico e quindi il centrodestra poteva avere moltissime ragioni liberali per contrapporsi a questa commissione, non le ha spiegate ed è rimasta vittima di un grande errore tattico e culturale, perché oggi l'antisemitismo è evidentemente un grave problema e dare soltanto l'impressione di non essere a favore di quella battaglia è un qualcosa di sbagliato, tanto è vero che negli ultimi giorni tutti gli esponenti di centrodestra si sono impegnati a ricordare di essere contro l'antisemitismo, ma il problema è che Salvini ha una questione di fondo irrisolta, perché essere sovranisti, essere nazionalisti, alzare i muri, avere paura dello straniero e alimentare l'odio contro il diverso è un qualcosa che evidentemente poi sfocia involontariamente anche nell'antisemitismo e su quel punto il centrodestra deve essere chiaro e oggi non lo è. Sono abbastanza d'accordo, devo dire che questa commissione non mi entusiasma, forse proprio perché da liberale credo che una società dovrebbe avere gli anticorpi, però è vero che ha una funzione simbolica, che chi l'ha proposta comunque è un'autorità morale oggi nel nostro paese e per questo credo che appunto le forze della destra e anche del centrodestra di Forza Italia, che su questo non era mai stata ambigua, davvero abbiano compiuto un errore, tanto più che per quanto riguarda la Lega, la Lega ha da molti anni alcune infiltrazioni di un certo tipo e basta fare un nome Savoini, che non è soltanto il personaggio che è andato in Russia, ma è un personaggio che in qualche modo rappresenta certi ambienti di estrema estrema destra, vicini appunto a tesi che non sono nemmeno neofasciste, ma sono qualcos'altro oltre confine. Sono filonaziste. Esatto. Chiamiamo le cose con loro nome. Esatto. E quindi temo che su questo ci sia una certa ambiguità, un'ambiguità che tra l'altro diciamo colpisce anche Giorgia Meloni e i fratelli d'Italia, perché comunque loro sanno che esiste anche quel piccolo target, che però è un target per loro utile e quindi non vanno mai a toccarlo. Quindi il sospetto è che ci sia stata un'ambiguità voluta. Ci spiegheranno poi nel tempo se non è così, però per ora il sospetto è quello. Il sospetto è questo, Borgonovo. Evidentemente qualcuno ha voluto fare l'occhiolino a un certo tipo di elettorato di destra estrema, poi però anche alcune forze di questo centro-destra italiano così restio a dichiararsi antifascista, ha capito che forse hanno fatto qualche errore o no? No, io non penso che sia così. Io penso che se oggi c'è un'ambiguità, esiste un'ambiguità nei confronti degli antisemiti, c'è per esempio nel Partito Democratico a Milano che fa accordi con associazioni musulmani vicine ai fratelli musulmani che esprimono posizioni veramente pesantemente antisemite, molto pericolose. Dell'ambiguità c'è in grande parte della sinistra che però non viene mai chiamata in causa. Io nel 2008 ero a Torino a difendere la partecipazione di Israele al Salone del Libro di Torino e dall'altra parte era schierata la sinistra praticamente in forze e di questo non si parla, però c'è la destra antisemita. Qui non c'entra niente l'antisemitismo che è proibito anche dalla Costituzione, così come ogni forma di discriminazione, c'è già quella. Non serve una commissione che è politica e che va molto oltre, lo ripeto, perché c'è scritto nel testo e allora se si vuole fare un dibattito politico, una discussione politica, come ha detto prima Cerasa, non si fa sull'onda dell'emergenza e dell'emotività creata ad arte con la questione degli insulti che evidentemente ci sono e nessuno nega che l'antisemitismo e il razzismo esistano, però la senatrice Segre in un'intervista alla stampa... Non si crea niente ad arte, la senatrice Segre ha denunciato 200 insulti e minacce antisemite a lei al giorno, 200 al giorno. Posso precisare? La senatrice Segre in un'intervista alla stampa dice testualmente che lei di quegli insulti non sapeva nulla, non se ne era neanche accorta, anche perché lei sui social network giustamente non c'è e quegli insulti sono stati andati a cercare da un report dell'osservatorio sull'antisemitismo, attorno a quegli insulti si è creato un allarme... Sì, ma c'erano o non c'erano gli insulti? Gli insulti c'erano, se la senatrice Segre non è sui social è evidente che non li ha visti, ha avuto conoscenza nel momento in cui qualcuno li ha segnalati, non stando dai sui social. Se posso permettermi le differenze sottile, nel senso che è ovvio che ci sono gli antisemiti, ci sono anche pubblicamente, abbiamo visto un senatore, un esponente dei 5 Stelle che parlava dei protocolli dei Savi di Sion, voglio dire, quindi è ovvio che c'è l'antisemitismo e ci sono anche dei razzisti in circolazione. Infatti i 5 Stelle hanno votato a favore di questa commissione, adesso stiamo parlando della destra italiana che si è astenuta. La senatrice Segre ha giustamente detto che non ci si può astenere sull'antisemitismo e l'antirazzismo, è una questione molto semplice. Ma non ci si astiene sull'antisemitismo e sull'antirazzismo che sono vietati dalla legge e dalla Costituzione, ci si astiene su una commissione. I casi di violenza sfondo razziale sono triplicati in questi ultimi due anni, quindi ci sarà un problema, avremo un problema o no? Io non credo che ci sia un allarme razzismo, intanto bisogna vedere che tipo di denunce sono. Un conto è che ci siano delle persone che su internet scrivono delle aberrazioni e delle enormità. Un altro conto è creare un allarme, dire che bisogna impedire subito che una persona che viene tempestata ogni giorno di insulti continua a essere tempestata, quindi si faccia in 4-4-8 una discussione in cui non si discute niente, si passa una mozione in cui oltre all'antisemitismo che non è in discussione e non può esserlo, ci sono dentro delle altre cose che servono a controllare e a limitare la libertà di pensiero e di espressione. Ma quale libertà? No, 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 scusa, per favore Cerasa, cerchiamo di essere chiari perché non c'è nessuna limitazione della libertà di pensiero con l'istituzione di questa commissione. Se c'è una commissione composta da politici che deve controllare e monitorare che cosa dicono delle persone su internet, i deputati siccome devono lavorare anche i deputati, monitorano delle situazioni che possono essere delicate e siamo in un momento delicato. E poi segnalano e chiedono la chiusura dei profili di persone che per esempio sono nazionaliste o per esempio sono contro le immigrazioni in massa. Evidentemente il ragionamento critico che si può fare rispetto alla commissione Segre riguarda lo spirito liberale di voler avere idee più forti rispetto alle idee sbagliate, ma qui non c'è nessuna repressione nei confronti di quelle che possono essere considerate idee sbagliate e che verranno esaminate rispetto alla commissione. Però c'è un elemento importante che non dobbiamo sottovalutare perché oggi purtroppo in Europa, lo affermano i ministri dell'interno della Germania, il ministro dell'interno anche della Francia, una delle più gravi emergenze legate all'antisemitismo è legata alla violenza dell'estrema destra. È un dato certificato. Il numero di attacchi registrati da coloro che si occupano di monitorare le violenze che hanno uno sfondo antisemita arrivano oggi dall'estrema destra e questo è quello che è successo in Europa negli ultimi mesi e negli ultimi due anni, come si diceva prima. E poi rispetto all'ambiguità del sovranismo su questi temi c'è una frase molto bella che in questo giorno abbiamo ricordato di Papa Francesco, che vi leggo è una riga. L'eccessiva rivendicazione di sovranità da parte degli stati quando degenera in un nazionalismo conflittuale produce razzismo e antisemitismo. Sono parole perfette che ci aiutano a capire perché oggi la destra estrema e la destra sovranista dovrebbe fare di tutto per combattere ciò che oggi la riguarda, cioè il sospetto che possa essere un veicolo di odio contro il diverso, lo straniero e anche nei confronti dell'antisemitismo. Professora Ventura, ricordo che tra l'altro venerdì sera il comune di Dresda, della città tedesca di Dresda, ha dichiarato lo stato di emergenza nazismo. Siccome in Germania sono molti a essere preoccupati per moltiplicarsi di casi di violenza, di antisemitismo, di razzismo ad opera della destra estrema, la città di Dresda è addirittura arrivata a dichiarare lo stato emergenza nazismo. Guardi, in realtà stiamo toccando un tema che ha talmente tanti aspetti e tante sfumature che mi sento di dire una cosa. Prima è stato tirato in ballo e anche adesso la questione dell'Islam e dell'antisemitismo all'interno dell'Islam. Rispetto a Claudio Cerasa io ho dei dati diversi. I fatti di violenza antisemita in realtà in Europa sono maggiori quelli compiuti da islamici. Sono dati che ho avuto modo di vedere, anche studi fatti da istituti francesi. ma il problema è che... Anche perché in Francia vive la comunità islamica più grande di Europa. Sì, anche analisi però anche su altri paesi. In particolare gli atti più violenti che sono arrivati all'omicidio, che sono poche unità, che però sono stati compiuti da islamici. Però lì parliamo di terrorismo, no? Sì, ma... No, no, no. Non terrorismo. Magari appunto un islamico più o meno squilibrato che ammazza una signora anziana ebrea. È successo questo per esempio in Francia. Il problema è che qui non è una gara a chi è più antisemita o chi è meno antisemita. E questo lo vorrei anche dire. Io sono molto consapevole del fatto che l'antisemitismo nelle comunità islamiche è un problema. Però questo non toglie che sia un problema nell'estrema destra. E non toglie che se negli anni passati e fino ad oggi c'era un allarme antisemitismo nell'islam, oggi continua ad esserci, nell'islam europeo, continua ad esserci, ma l'allarme dell'antisemitismo nell'estrema destra è aumentato. Quindi fare appunto a gara dire io ho difeso Israele, non vuol dire nulla. Il problema c'è bisogno avere l'onestà intellettuale di guardarlo in tutti i suoi aspetti. Guardano tutti i suoi aspetti. Cerasa, rapidissimo, vuole intervenire? Il ministro dell'interno tedesco ha detto che negli ultimi due anni il 90% degli attacchi a sfondo antisemita riguardano l'estrema destra. L'ha detto il ministro dell'interno tedesco quattro mesi fa. Forse in Germania e poi dipende quali attacchi potremmo confrontare. Vi faccio però adesso vedere il punto di Paolo Pagliaro perché l'intolleranza cresce anche su un terreno di grande disuguaglianza. E come forse avete avuto modo di seguire, Mezzomondo sta scendendo in piazza per protestare contro le grandi disuguaglianze. Pochi secondi e poi Paolo Pagliaro quel punto. A Hong Kong tra le ragioni della protesta ci sono i privilegi dei politici e degli imprenditori vicini a Pechino. In Cile milioni di persone scendono in piazza contro le disuguaglianze. In Iraq le proteste popolari hanno nel mirino la corruzione dilagante tra le istituzioni al potere e le disuguaglianze tra le classi sociali. Contro le élite i loro privilegi si manifesta in Libano, si scende in piazza al Cairo, si incendia mezza America Latina. La disuguaglianza e la violenza sono strettamente intrecciate come da Stanford documenta lo storico Walter Scheidel nelle 500 pagine che il mulino titola la grande livellatrice. Scheidel, che il 23 novembre a Bologna terrà l'annuale prestigiosa Lectio Magistralis della casa editrice, sostiene che nella storia hanno prodotto l'effetto di ridurre le disuguaglianze solo le grandi guerre, il fallimento degli stati, le rivoluzioni e le epidemie. Sono i quattro cavalieri dell'apocalisse che mandando in frantumi l'ordine costituito hanno rimescolato la distribuzione del reddito e della ricchezza. Tutto il resto, socialdemocrazia, riformismi, dottrine sociali, ha mancato il bersaglio, con il risultato che alla fine le disuguaglianze sono aumentate. A tutti noi che apprezzeremmo una maggiore uguaglianza economica, il professore rammenta che con rarissime eccezioni essa è stata sempre generata solo nel dolore. Fate attenzione a ciò che vi augurate, conclude Scheidel, come per ricordarci che nessun pasto è gratis. Professoressa Ventura, l'Italia rischia un'implosione e una deriva violenta? Una deriva violenta direi di no al momento, anche perché non mi sembra che ci siano delle condizioni così disaggreganti nella nostra società. La nostra società ha comunque delle risorse. L'implosione è una lenta degenerazione, questo sì, perché io vedo che la cultura politica di questo paese si sta veramente sfarinando, la cultura politica democratica è anche per questo, perché io sono abbastanza critica di questo governo, perché vedo che c'è un contagio del populismo del Movimento 5 Stelle che comunque è una forza piuttosto antiparlamentare e ha diverse caratteristiche che poco hanno a che fare con la democrazia parlamentare, un contagio nei confronti del Partito Democratico e questo mi preoccupa abbastanza. Allora avremo modo di tornare su questi temi, io adesso devo chiudere, quindi ringrazio la professoressa Sofia Ventura, grazie Francesco Borgonovo, grazie Claudio Cerasa, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio ai programmi della rete e noi come sempre ci vediamo lunedì o per mezzo, arrivederci.